Ogni inverno quando dovrei dormire mi sveglio pieno di brividi. Ma questo inverno non andrà così. Guardate questo foglio. Il riccio, il maiale, la gallina e lo scoiattolo si raccolsero attorno al foglio e l'orso spiegò loro che era il progetto di una casa per l'inverno. La sto costruendo con dei bei ceppi, rami forti e del muschio per non far passare il vento. E se mi aiutate potrete stare con me nella mia casa invernale. L'orso prese a riempire le fessure con il muschio. I giorni passarono e giunse l'inverno. Il vento ululava ma l'orso non importava. Se ne stava il calduccio nella sua comoda casa invernale. Ma lo scoiattolo era infelice. I rami ondeggiavano avanti e indietro talmente forte da buttare quasi giù dal letto il povero scoiattolo. E il riccio che di solito in inverno si arrotola tra le foglie era infelice ai piedi dell'albero. Le foglie umide non li si incollavano addosso perché il vento di burrasca le spazzava via. E anche il maiale era infelice dentro al porcile. Il vento gelido aveva soffiato via tutta la paglia e la gallina era infelice sul trespolo perché il vento forte soffiava attraverso le fessure del pollaio. E la faceva starnutire. Alla fine i quattro animali non ne poterono più. Camminarono tra il vento e la pioggia fino alla casa invernale dell'orso e lo supplicarono di fargli entrare. E siccome orso era molto gentile si alzò dal suo comodo letto di muschio e aprì un buchetto sulla parete perché si infilassero dentro. Lo scoiattolo, il maiale, il riccio e la gallina ringraziarono tutti insieme l'orso. L'orso diede loro un po' del suo letto di muschio e disse adesso ci facciamo una bella dormita per tutto l'inverno.